Difficile, difficile, difficile. Allora, adesso vi faccio questa, che è invece il figlio che parla, il padre. E, insomma, conoscete il brano, penso che tutti, che si chiama Edoardo. Il mio padre non si chiamava Edoardo, si chiamava Salvatore. Però, in qualche modo, ho voluto parlare della storia di Edoardo Agnieri. Vieto sono stato a Torino, quindi ho cantato questa canzone a Torino. Io non è che avessi delle particolari simpatie per Edoardo, cioè in generale. In particolare non lo conoscevo, Edoardo Agnieri. Però, in qualche modo, ho visto in questa vicenda fra lui e suo padre, c'è qualcosa che mi ricordava la mia. E quindi, al di là delle sue stranezze, delle sue sofferenze, non posso dire di averlo conosciuto bene. Però, in qualche modo, mi sono rivisto e quindi le canzoni si scrivono anche sui castronaggi difficili, non soltanto su quelli facili. Quindi, ho scritto questa pensando a lui e pensando alle parole che lui avrebbe potuto dire a suo padre. Ma volevo dirle io. 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 Io la cercavo da te. Grazie